Mi raccomando, di corsa all'aerobot. Va bene, Eminenza. Oh, santo cielo! Vada a vedere cos'è successo. Subito, Eminenza. Anche questa ci voleva. Ma che modo è di guidare la macchina? Guardi che disastro! Lei ha rovinato la macchina! Lei è un pazzo criminale! Dove che sei, Gabriele Arcangeli? Quinto piano. Interno 11, almeno così credo. Eh, questa è la mia casa. La casa di Domenico Metruzzelli, il sarto dei preti, ma onesto però. Io devo chiedere scusa a tutti quanti, anche a Gabriele. Gabriele, perdonami, ti ho tolto la casa, il nome, la cura terapeutica. Gabriele, ti chiedo perdona a... Domenico! Scusa, scusa, sono pronto a spiegarti. Elena. Mio Dio, che scandalo! No! Ma come tu, a me, al tuo migliore amico, infame, maledetto! No, non la prendere così, ti posso spiegare. Oh, buongiorno, signorina, benvenuta. Buongiorno. Ecco, ci sono delle situazioni particolari, per cui uno... Spiegalli tu. E poi ti posso spiegare, non te la prendere così. Eh? Mariano, Mariano! Ma se è una gabbia dei matti? Ah! L'Urico! Oddio, non mi dimentico, addio! Mariano! Non sconditi, è se è L'Urico! L'Urico! Marzinga! Oh, L'Urico! Come scappiamo? Mamma Mariana, non sconditi, meredetto! Marzinga! Quello bambino mi fa, che adesso mi ammazza! Gabriele, l'Urangeli! Solti fuori! Per favore, Domenico! Gabriele! Gabriele Arcangeli, è lui! Io sono Domenico Benruccelli, lo chiedo al portiere! Io sono Gabriele Arcangeli, sono pronti a spiegare tutto! Diggio! Adesso lei sta lì, buono! Un attimo! E se sta calmo, ci spiego tutto! Gabriele Arcangeli, non ti senti! Zellù! Vitte riconosso! Armene! Che treno era? Ti ha fatto male! Che succede? E questo è il terremoto! Oh, mio! Mi aiuto! No, lasciami! Sì, sono gli altri! Donne! No, no! Stai, che mi è mai lì! Stai, che mi è lì! Ma sono un ricomento! Non si va qui, fermo! Ma cos'è, matto? Adesso devi sta a cammino, hai capito? Mi va, Rovito! E su, va! Oh, Gabriele! Domenico! 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 Elena! Chi è? Domenico! Ma vai col tetto quando si mette le decorazioni di Sant'Unoio! Sì, tesoro! Il dottore dice che Domenico va meglio e che presto riacquisterà anche l'uso della parola, però lo vuole rivedere domani! Io invece, quando mi curi te, non ho più bisogno di nessun dottore! Caro! Mi è passato anche le frutture che... Gradino! Vai, vai, vai! L'ultima fidanzata del signor Gabriele era proprio buona! Oh, non ci dicono queste cose, resti del signor Gabriele? Papà! Papà! Domenico! Papà! Domenico! Papà! Papà! Madonna mia! Papà! Papà! Domenico! Domenico! Ti sofflico, parla! Domenico! Parla! Sì caro sì! Ma 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 ma! Mama! Non ci sono! Sì la mamma! Mamma! Bambula! Grazie a tutti.